Partita difficile, una squadra sicuro che è organizzata e non vuole perdere il gol. Sotto facciamo bene, squadra forte, ora teniamo che stare così, con quella testa e avanti così. Sì, sì. Lui sempre vuole il massimo di noi e credo che lui vuole sempre vincere e anche noi vogliamo vincere. È un grande mister.